Solo una piccola annotazione che benché già sul sito avessero la possibilità di, ancora prima di comprarlo, di scaricare il manuale e quello è una cosa comodissima, qualsiasi cosa si compri, specie di elettronica, per capire che cosa si sta comprando e se quello che si sta comprando fa quello che pensi che farà e benché lo stesso manuale sia stato inviato assieme alla fattura via email avrei apprezzato avere, anche se non serve, l'ambiente ringrazio, una versione stampata del manuale che non ho trovato nella confezione, però appunto abbiamo il pdf, quindi va benissimo